Una mappa ideale che racconta attraverso i testi e le immagini una Puglia inedita, tutta da scoprire. Biomanessimo di Puglia è il libro fotografico realizzato da Melania Petriello e Chiara Pasqualini che rivela le realtà virtuose e sostenibili pugliesi, i volti e le storie di chi ama e preserva il territorio. C'è bisogno di una narrazione differente che non è soltanto quella del turismo spesso anche smodato che in tutto il mondo si vive in questo periodo ma anche e soprattutto di una riscoperta di quella che il poeta Franco Arminio definisce l'Italia minore, quindi una Puglia minore non perché meno importante o perché più lontana dalle mete gettonate ma è un insieme di mete che vanno ricercate, vanno costruite, vanno coltivate, vanno anche manutenute. Il rispetto dell'ambiente, il rispetto della biodiversità, il rispetto del creato come direbbe Papa Francesco si coniugano con una nuova narrazione del turismo che è sempre più esperienziale, che tocca le persone. Memorie, legami e comunità sono al centro del progetto nato da un'idea di Anna Grazia Maraschio assessora all'ambiente della Regione Puglia in collaborazione con l'autrice Petriello e la fotografa Pasqualini. È un racconto delle donne, degli uomini che segnano la storia di ogni giorno. Sono loro la vera forza di questa Puglia, di questa terra straordinaria che è così diversa dal capo di Leuca al Gargano con paesaggi meravigliosi e con persone straordinarie che fanno della tradizione una forza e che guardano l'innovazione. Per cui abbiamo voluto raccontare storie di donne e uomini che vivono in Puglia e che amano la terra e il nostro territorio. Abbiamo poi anche voluto raccontare attraverso le loro storie anche quella che è la nostra visione dell'ambiente, della natura, del paesaggio della Puglia.